Oggi abbiamo sofferto forse un po' troppo, siamo partiti anche discretamente bene perché il primo tempo credo sia stato molto equilibrato, poi il secondo tempo alla prima difficoltà ci siamo disuniti e una volta preso il primo gol non siamo stati capaci di reagire come volevamo e poi il Palermo è stato bravo a farci sia il secondo che il terzo gol. Il Bari deve continuare a fare quello che sta facendo, lavorare bene tutti i giorni, cercando di migliorare, il gruppo sicuramente c'è compatto e vuole raggiungere obiettivi importanti, noi cerchiamo sempre di dare il massimo, poi purtroppo c'è anche l'avversario, c'è da fare i complimenti all'avversario, ma noi continuiamo ad allenarci e a cercare di dare il massimo. Io purtroppo ero un po' distante, non l'ho visto, però in prota mi ha detto che c'è stato un tocco di mano e poteva starci anche il rigore, forse non lo so, però non stiamo qui a recriminare, a parlare di torti arbitrali, quindi andiamo avanti. Quando perdi 3-0 sicuramente gli avversari sono stati migliori, noi dobbiamo ripartire e pensare già alla prossima. Ci alleniamo tutti i giorni insieme, sicuramente poi in partita è diverso, alcuni meccanismi sono un po' da mettere a posto, però il primo tempo è stato un primo tempo anche equilibrato, poi il secondo tempo dopo il primo gol ci siamo disuniti e da lì è cambiata la partita. Io sono stato fermo qualche partita e quindi devo trovare la miglior condizione, devo passare da prestazioni di difficoltà, di sofferenza perché è normale che sia così, però spero di tornare presto al top. I tifosi sono sempre vicini, ci danno tanta carica, quindi ripartiamo da quello e cercando subito di rialzare la testa a Perugia.